Buon Natale di DigitalDoggy ragazzi ancora qui con Vestax perché dopo aver fatto vedere una 380 che ora funziona molto bene con Virtual DJ ho fatto funzionare una Vestax Spin 2 su PC allora fino a un mesetto fa quando avevo ricevuto questa Spin 2 ero riuscito a far andare chiaramente su Mac e su iPad perché è nata proprio per il mondo Apple poi cos'è successo un paio di mesi fa c'è stata una fiera del NEM negli Stati Uniti molto grossa dove Casio ha presentato la gemella della Vestax Spin 2 ve la faccio anche vedere questo è il motivo proprio per cui io ho scoperto come fare andare Vestax Spin 2 su PC questa è la Casio iFu J1 un rebrand cioè è la stessa identica console con scritto Casio che Vestax rivende a Casio però leggendo le caratteristiche a parte un leggero ritocco estetico ma fondamentalmente sono identiche mi sono accorto che viene venduta anche con Decadence software che funziona sia su PC che su Mac allora se funziona su PC mi sono detto magari i driver per PC della Casio vanno bene anche per la Spin 2 e infatti così è stato quindi installati i driver della Casio è stata riconosciuta come fosse la Casio ma è la comunque computer come Windows 7 o Windows 8 la Vestax Spin 2 funziona quello che dovete fare è non andare sul sito della Vestax ma sul sito della Casio a scaricare i driver per l'XFu J1 ora qui potete guardare l'indirizzo del sito della Casio per evidenza ma comunque basta cercare driver XFu J1 Casio e li trovate andate qua sotto I agree ti ho accetto e vi scarica i driver per Windows 7 e Windows 8 su XP credo non vada non ho un computer con XP quindi non l'ho potuto provare quindi una volta installati i driver la collegate e funziona potete utilizzarla con Mix 5s Cross Decadence dove su Decadence dovete selezionare che sia la Casio e non la Vestax invece su Mix 5s Cross basta selezionare Spin 2 diciamo apparta potete utilizzarla anche con Virtual DJ grazie al mio mapper quindi cosa dovete fare se avete una versione completa di Virtual DJ Pro andate nel sito di Virtual DJ nella parte diciamo controller potete trovare il mapper per la Spin 2 scrivete Spin 2 nel motore di ricerca per i controller oppure comunque andando su controller e qui magari adesso qualcuno caricherà qualche altro mapper nei prossimi giorni mesi e scenderà comunque come vedete qui c'è una bella lente di ingrandimento andate qui scrivete Spin 2 e vi ritrovate il mio mapper per PC e per Mac quindi anche su Virtual DJ su Mac funziona chiaramente su Mac non servono i driver mentre su PC vi servono come vi ho detto quelli della Casio la Spin 2 la trovate su djpoint.net di cui ringrazio immensamente i ragazzi per avermela fatta avere soprattutto per avermi ci fatto mettere le mani e proprio grazie al fatto che me l'hanno mandata sono riuscito alla fine a farla andare sui PC quindi djpoint.net se volete comprare o cercare un negozio vicino a casa vostra dove prenderla ma andiamo un po' a vedere Virtual DJ dove perfetto tutto funziona funzionano i led dei v-meter funzionano tutti i led dei tasti sono illuminati bene i due colori perché per esempio questi sei tasti qui andando in modalità sample diventa verdi e potete far partire vedete i sample su Virtual DJ quindi avete 6 e 6 sample quando questi due tasti sample sono verdi quando tornate nella modalità browser cioè per le canzoni avete i tastini qui sopra e sotto per scorrere la lista delle canzoni se lo tenete spinto tra l'altro vedete ripete anche e va su e giù destro e sinistra per caricare le canzoni nel deck di destra e deck di sinistra due tastini cuffia per avere il preascolto con la cuffia che funziona perché i driver audio ora vanno sia di un deck che dell'altro parte classica mixer quindi bassi medi e alti posso togliere i bassi medi e gli alti fino a eliminare completamente il suono e avete anche il filtro come potete sentire mappato ok gain classici per fare la regolazione del guadagno still drop qui per andare avanti e dietro come vedete non funziona se solo dovete fermare la traccia e potete andare avanti indietro velocemente a cercare la canzone questo è possibile anche con la jog più shift come potete vedere potete andare avanti indietro cercare un punto che volete voi della canzone dovete semplicemente spingere il tasto shift oppure scorrere col dito se la canzone sta andando qui non funziona ma funziona solo se ci date con lo shift quindi con lo shift praticamente vedete potete cercare avanti indietro e fretta una canzone quando siete in modalità sample uguale vedete shift e potete andare avanti indietro nella canzone quindi questi sei tasti come prima lo dice anche la serigrafia hanno normalmente sono tre o più ora vedete salto sul primo qui posso settarne un altro con lo shift lampeggiano e mi fanno capire che posso cancellarli un ottavo un quarto e un mezzo sono per fare del loop roll veloci quindi loop di un ottavo loop di mezzo vedete per fare un loop roll veloce e con il tasto shift attivano tre effetti vedete il flanger diretto l'eco e il brake che adesso è a zero quindi è partito subito a fermare la traccia vedete lo posso far partire anche piano quindi questa è la funzione di questi sei tastini quelli sopra servono per il loop quindi avete il tasto centrale che vi fa già un loop della lunghezza che avete deciso con questi altri due tastini guardate sulla skin di virtual dj e potete vedere quanto è lungo il loop io se lo attivo in questo caso sono a quattro quindi sto lupando quattro battute così ne lupo due così ne lupo una fino a chiuderlo e invece andando avanti lo riapro rispingo auto loop ed esco da questa modalità con i tasti shift più out e double faccio un loop in e un loop out cioè decido io il punto in cui il loop deve iniziare e il punto in cui il loop deve finire eccolo ho fatto un loop di quattro battute poi togliendo lo shift lo posso chiudere come prima o togliere il loop quindi anche questi tre tastini qua per fare il loop perfettamente mappati avete qui un tasto per modulare un effetto audio quindi adesso ho fatto ripartire il break per errore shift più effects on scorro la lista degli effetti che vedete qui qui posso scorrere nella mia lista effetti voglio far partire un echo tolgo lo shift spingo il tasto effects on si accende di blu e la rotella va ad agire sull'eco ok rispingo e spingo l'effetto neanche la parte effetti funziona perfettamente qui avete due tastini per fare pitch band ossia rallentare o accelerare la traccia così la sto rallentando così la sto accelerando per chi non è un esperto di dj in questi due tastini servono per potersi mettere a tempo con l'altra canzone è la stessa cosa che si fa andando ad agire sulla jog come vedete accelero o deccelero la canzone posso scratchare oppure spegnendo il tasto scratch la jog fa solo il pitch band quindi è come se da toccarsi qua di fianco riaccendo e la superficie metallica sopra conduce quindi fa sì che le jog capacitive dicano al software che ci sto scherzando le del pitch classic potete rallentare accelerare la traccia funziona perfettamente i tasti qua sotto ho gli ultimi quattro play set del punto di di cue salto sull'ultimo punto di cue in questo caso non l'ho settato quindi se io setto qua un punto di cue e gli do il play vedete e salto sul punto di cue solo se la canzone sta andando sotto avete il sync anche classico che vi permette di mettervi a tempo con l'altra traccia e qui avete la possibilità di scorrere velocemente avanti indietro con shift più avanti ho il tasto per andare avanti indietro si fa prima a farlo con la jog però comunque io ho rispettato la serigrafia dei tasti il tasto shift più play come dice la freccia di rimanda all'inizio della canzone se volete tornare in fretta all'inizio ci tornate e il sync non l'ho mappato con alcun tasto shift comunque lo spingete e va andate a tempo con l'altra traccia quindi diciamo che ho perfettamente fatto funzionare tutti i tasti non sono tantissimi è una console diciamo abbastanza entry level di casa Vestax nata soprattutto deve funzionare con l'iPad tant'è che qui c'è proprio il connettore diretto per farla funzionare con l'iPad viene l'ho già mostrata poi in un altro video viene fornita con il suo alimentatore quando la utilizzate con PC o con Mac non serve quindi con PC o con Mac collegate solo la USB e i cavetti audio e funziona perfettamente funziona l'uscita cuffia dovete semplicemente qua su virtual DJ nelle impostazioni audio selezionare l'XVJ1 che sarebbe poi il driver per la Casio non per la Vestax perché non esiste quindi mettete output headphones input niente driver asio come vedete perché ho installato il driver asio della console della Casio e XVJ1 e la cosa so suona perfettamente ve ne accorgete anche andando qua sotto io qui ho il piccolo driver installato adesso in questo momento non lo vedo comunque è lì da qualche parte installato della Casio quindi funziona come se fosse la Casio vedete è perfetta funziona tutto ah mi l'ho dimenticato anche questo tastino qua in alto che ho mappato in realtà per fare il preascolto e con lo shift fa la registrazione della canzone secondo me era più comodo abilitare il preascolto e scorrere nel browser con sopra e sotto le canzoni per preascoltare in fretta tutte queste canzoni del mio browser quindi questo vedete è mappato qui come se fosse un preascolto tanto il rack se lo fate partire per mixare non è che dovete fermare e rifare partire il rack ogni due minuti fate partire la registrazione poi la lasciate lì quindi l'ho mappato in una maniera un po' più intelligente anche di come è stata mappata su dj e altri software comunque l'SXPIN2 insomma funziona perfettamente anche su pc e non solo con l'algoritmo che è il software che vi viene data un gran bel software però diciamo con virtual j è possibile farci molto di più potete chiaramente rimappare anche tutti i tasti io ho pensato di mapparla in una maniera standard esattamente come era serigrafato sul controller anche perché chi non se ne intende tanto vorrebbe poi utilizzarla esattamente con quello che c'è scritto per capire subito come funziona non la vieta che voi poi cambiate tutti i comandi sarò agente il mio mappare la cosa bella di virtual j pro ok ragazzi quindi virtual j pro 7.4 spin 2 su pc l'abbiamo fatta andare un grazie a fabio alla camera e a djpoint.net e all'estrack soprattutto per avercela fatta avere così che siamo riusciti anche a capire come farla andare su pc al prossimo video ragazzi ciò c'è per digital giochi.it